Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è mercoledì 22 dicembre 2021, il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 16.32 e oggi si festeggia una santa relativamente moderna ma di grande attualità, è Santa Francesca Saverio Cabrini, una santa che è nata a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850, a 11 anni emise il voto di castità, era piccolissima, a 27 si è fatta suora, ha fondato l'istituto missionario del Sacro Cuore, desiderava andare in Cina farsi missionaria ma il Papa la inviò in America dove c'erano tanti emigrati, in modo particolare emigrati italiani, lì fondò orfanotrofie e ospedali e poi dagli Stati Uniti passò in Argentina, in Cile e in Perù. Morì nel 1917 tra i suoi emigrati e pensate all'attualità di questa santa che fece tante cose utili, tante cose per il riscatto sociale delle persone che avevano lasciato il loro paese per sperare in un futuro migliore. E ora apriamo i giornali, questa mattina a partire dal resto del Carlino, vediamo la prima pagina di Fano dedicata a un argomento di grande attualità anche questo, ovvero i regali di Natale, molti si riducono agli ultimi giorni per realizzare qualcosa di bello, di simpatico, di utile. Ebbene il giornale questa mattina ci propone di acquistare soprattutto libri, poi ci sono anche prodotti volutuari come profumi, dolci o formaggi. Impazza la strena però made in Fano, ovvero dei prodotti che parlano di Fano, che valorizzano la città. Impennata d'orgoglio sotto l'albero, dalle pubblicazioni sulla storia cittadina alle ghiottonerie tipiche, fino all'essenze alla moretta e al cacio fanum fortune. L'essenze alla moretta, non solo il gusto ma anche il profumo, l'atmosfera che suscita la moretta, questa tipica bevanda della città di Fano. Quest'anno poi è il boom dei regali che raccontano un po' di noi, di quello che siamo, cioè di noi fanesi. Vediamo alcune idee. Il Carlino suggerisse il libro che parla di Vitruvio, un libro a fumetti scritto dal fanese Michele Petrucci. E poi sta andando bene anche il libro di Paolo del Bianco, Fano, città di mare e colli, che raccoglie 450 fotografie tra natura, storia, architettura, folklore, insomma quello che c'è, quello che si assapora nella città di Fano. Anche un bel romanzo scritto da Maura Garofoli, Le violette dell'imperatore, opera prima di questa scrittrice fanese d'adozione e goriziana di nascita. Altro regalo tipicamente fanese è la moretta, la moretta come bevanda ma la moretta anche come essenza, ovvero il profumo alla moretta. E poi ancora abbiamo un formaggio tipico che viene lanciato adesso, lo fa il caseificio Pupetta con tanto di marchio della Dea Fortuna, insomma l'emblema e il simbolo della città di Fano. Un regalo invece di grande solidarietà è quello che ha fatto la banda città di Fano all'oasi dell'accoglienza. Il Covid non ferma la solidarietà, è un articolo a fondo pagina della prima pagina del resto del Carlino su Fano. La solidarietà non si è fermata anche in tempi di pandemia. Il complesso bandistico città di Fano ha consegnato anche quest'anno 500 euro alla oasi dell'accoglienza di Sant'Andrea in Villis. E poi i pranzi di Natale, a Natale ma soprattutto parliamo della vigilia perché qui si parla di pesce e il pesce è il piatto tipico della vigilia di Natale. In pescheria però è come entrare in una gioielleria, ci sono rincari fino al 30%. C'è pesce in abbondanza per la vigilia ma occhio ai prezzi soprattutto per la specie senza spine. Il termometro del mercato itico all'ingrosso viene evidenziato dal direttore del mercato stesso che evidenzia anche alcuni prezzi, è Angelo Nardini, alcuni prezzi per quanto riguarda il pesce senza spine e il pesce più povero. Ma non è più povero per quanto riguarda il sapore, soprattutto per chi lo sa cucinare bene. Cure pagliative pediatriche, l'ospis sarà a Fano. È la notizia che è emersa ieri dalla riunione del Consiglio regionale dove erano in discussione tre mozioni addirittura di varie forze politiche che istituivano questo grande servizio di cure pagliative per i bambini che soffrono e soprattutto anche per le famiglie che ora sono costrette a fare riferimento a strutture molto lontano dalla città di Fano con oneri spesso insostenibili a carico delle stesse. Ebbene a Fano sarà realizzato l'ospis pediatrico, una struttura particolare di carattere addirittura interregionale dove i bambini in fase acuta potranno essere assistiti, potranno essere curati, ma la strategia delle cure pagliative è più ampia. Ci sarà un hub in Ancona al Salesi che darà le direttive, effettuerà la lungodegenza, poi in ogni provincia ci sarà un centro per quanto riguarda appunto il riferimento dei pediatri e a Fano all'ospedaletto, all'ospedaletto questo hospice speciale. Ora si tratta di trovare i soldi per realizzare tutto, ma è questo un incarico che dovrà essere assolto molto presto, nel giro di sei mesi, perché a giugno i soldi devono essere trovati e il progetto deve essere avviato. La soddisfazione di tutte le forze politiche, qui vediamo Luca Serfilippi della Lega, uno dei firmatari di una delle emozioni, ma ci sono anche dichiarazioni di soddisfazione del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Fratelli d'Italia, insomma di tutte le liste civiche, di tutte le forze politiche che hanno concorso unanimemente a realizzare una volta tanto una cosa buona per la regione e per la città di Fano. No al biodigestore senza pianificazione. A terre roveresche si è svolto un incontro sul progetto della Feronia Barchi. Oltre 60 persone si sono riunite nella sala consigliare di Orciano. hanno partecipato all'incontro pubblico organizzato dai consiglieri Baiocchi e Rossi. Il sindaco Sebastianelli ha dichiarato, se sarà necessario, ricorreremo al Tar e al Consiglio di Stato per fare valere le nostre ragioni. Mentre il Comitato di Cittadini, a nome del Comitato, Biagioli dice, rischiamo di perdere 13 ettare di terreno agricolo, 7 di quali cementificati. Insomma, una reazione nei confronti di questa struttura determinata da parte dei cittadini. Urbino, una sede per la Polizia. Il Consiglio si mobilita. A Urbino si reclama una sede per il Commissariato. maggioranza e opposizione concordano. Serve uno sforzo collettivo per individuare in tempi rapidi il nuovo Commissariato. Ora, cosa avverrà per l'approvazione unanime in Consiglio Comunale? Ebbene, dopo questo, la Sise ha dato sostanzialmente mandato al Sindaco e la Giunta di rimanere attiva nel reperire le informazioni e quindi di attivare tutte le azioni per evitare scelte inadeguate. devono essere scelte che riguardano la posizione del Commissariato, una posizione non molto lontano dal centro storico ma così prossima a tutte le vie di comunicazione, in modo che le pattuglie possono subito mettersi in azione e anche di adottare azioni per garantire una giusta vicinanza appunto alle esigenze dei cittadini. Prende corpo l'idea di una seduta monotematica per arrivare alla soluzione. Ancora non si è deciso bene dove collocare questa stazione. Raffaello Sanzio e il gestista Kobe Bryant hanno ispirato l'opera di Joe Ross e prosegue al Collegio Raffaello in Piazza della Repubblica la mostra dell'artista Urbinate per il periodo di Natale. Gratta e vince 100.000 euro. È un bel Natale quello che trascorrerà questo cliente della tabaccheria di Ferminiano. Sarà un Natale d'oro per il misterioso giocatore che ieri ha acquistato un gratta ai vinci della serie Porta Fortuna, rivelatosi valere la bella somma di 100.000 euro. La vincita si è registrata alla tabaccheria Centocose di Via Kennedy a conduzione tutta femminile. E vediamo qui le operatrici di questa tabaccheria che mostrano l'assegno 20 qui 100.000 euro. Chi è che ha vinto? Beh non si sa il nome ovviamente. È un cliente abituale che conosciamo che ogni tanto tenta la sorte con un grattino da 2 euro hanno detto appunto coloro che gestiscono il negozio. Vediamo la pagina di Pesaro per quanto riguarda il resto del Carlino e vediamo che in ospedale, al pronto soccorso di Fano, opereranno il giorno di Natale due primari. Vediamo qui la foto di Alberto Patriti e qui la foto di Giancarlo Titolo. Patriti è il primario di chirurgia. Titolo è il primario di pronto soccorso. Saranno loro gli operatori che faranno fronte alle esigenze del pronto soccorso nel giorno di Natale. Se non lo facciamo noi, perché dovremmo farlo fare ai nostri medici? Hanno detto i direttori. Il presidio fanese in questo periodo registra una media di 110 accessi giornalieri e veramente il personale è giunto alla frutta. Il regalo del direttore di chirurgia di Marche Nord, Alberto Patriti, ed è la responsabile del pronto soccorso del Santa Croce, Giancarlo Titolo, facciamo riposare i colleghi, non ci aspettiamo, gratitudine, è un dovere, hanno dichiarato. Variante Omicron, tra noi, casi autottoni. Non sono casi che giungono dal Sudafrica, ma sono casi sorti nella nostra realtà. Lo dice il virologo di Torrette, Stefano Manzo. Stefano Manzo, scusate. I due marchigiani contagiati, dice, non avevano viaggiato all'estero. I contagi sono destinati a salire. Quindi, attenzione, osserviamo le disposizioni, in modo particolare, mascherine, no, ad assembramenti che possono tutelarci la salute. Panettoni, no grazie, ve li ridiamo. È una protesta che hanno fatto i sanitari cost care. Vogliamo rispetto. I dipendenti della struttura di Villa Fastigi protestano, riconsegnando simbolicamente i pacchi natalizi. A parità di mansioni, prendiamo il 20% in meno di chi lavora del pubblico e abbiamo altri svantaggi, hanno detto, appunto, qui i dipendenti. Li vediamo in questa fotografia con il lenzuolo di protesta. E ora stiamo costretti a darvi una brutta notizia. La brutta notizia caffè, cornetto e cappuccino via ai rincari. Dal primo gennaio i rincari addirittura del 25%. Le associazioni di categoria compatte dicono una decisione inevitabile questa a causa dell'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime. Ma ci sono i titolari però che tentano di resistere. Non tutti applicheranno questo aumento. Cerchiamo di andare incontro alla gente perché capiamo il momento difficile. Hanno dichiarato, ma sono una minoranza. Quindi cappuccino, cornetto, costerà qualcosa in più, circa 1,50 euro un caffè. Insomma, 1,50 euro, quando adesso costa 1 euro, 1 euro 10, 1 euro 20. E nemmeno il pane fa eccezione. Nel 2020 sarà più salato. Un aumento medio del 20%. Alla base del rincaro, certamente, c'è l'aumento della materia prima, ma anche l'aggravio dei costi per il trasporto. E sappiamo come il metano e la benzina sono aumentati considerevolmente in questi ultimi tempi in prossimità del Natale. E anche il conservatorio di Pesor avrà meno fondi. Sono in arrivo comunque 5 milioni e mezzo invece di 6. Ricci conferma il finanziamento per interventi strutturali. Siamo in alto mare, invece, per l'auditorium Pedrotti. Hacket, pacchi natalizi ai pantanesi. Chi è Hacket? Hacket è Daniel Hacket, pantanese docche, il quale, cresciuto nel quartiere, fa una donazione all'Auser per una quarantina di famiglie in difficoltà. Pensate che bel gesto che ha fatto questo ragazzo. Qui abbiamo un gruppo di volontari dell'Auser pronto alla consegna dei pacchi a San Carlo e qui a fianco Daniel Hacket, pantanese, appunto docche. Addio al fumettista Germano Ferri, era il papà dell'uomo mascherato, ritenuto uno dei più grandi disegnatori di tutti i tempi. Aveva insegnato all'Istituto d'Arte Mengaroni. E poi, tanti bambini positivi, fate il vaccino, è l'appello di Mirka Marangoni. Fa soffrire, pensare che molti abbiano preso il virus, vanno protetti, ha dichiarato. Aperta la campagna a Vallefoglia, alla Casa della Salute per i pazienti dai 5 agli 11 anni, si inizia oggi per chi ha prenotato. Ebbene, ora passiamo al Corriere Adriatico, dove per quanto riguarda l'aspetto della sanità, vediamo che chiude la Guardia Medica. Per l'emergenza c'è il 112. Ebbene, nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio, il servizio sarà sospeso anche a Pesaro per carenza di personale. C'è stato un consulto telefonico da Urbino e Fano. Aumenterà la pressione sul pronto soccorso per le patologie minori. Dunque, niente servizio di Guardia Medica nei giorni festivi e prefestivi di questo periodo natalizio alla sede di Pesaro in Viale della Vittoria. Per la prima volta, e dopo l'accorpamento delle sedi di Montecchio e Gabice Mare, la postazione cittadina per la continuità assistenziale subisce ancora un drastico ridimensionamento. E questo sempre a causa della carenza di personale. Per trovare il personale deve finire la pandemia. È in sostanza quello che ha dichiarato ieri l'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, rispondendo a una interrogazione che è stata presentata da un gruppo di consiglieri del Partito Democratico, tra cui anche la Vitri, per quanto riguarda appunto la Guardia Medica e per quanto riguarda la carenza di personale. Insomma, bisogna aspettare che finisca questo stato di emergenza per ritornare alla normalità. Marche Nord, otto bandi per reclutare i medici. L'annuncio è della direzione ai sindacati di categoria per le assunzioni urgenti a termine. Per le specialità equipollenti il passaggio al pronto soccorso mancano però otto professionisti. E il pronto soccorso, come le guardie mediche, sono appunto i reparti più deficitari per quanto riguarda il personale. Anche il Corriere Adriatico evidenzia i rincari per quanto riguarda la colazione di coloro che la fanno al bar. tazzina del caffè salata in vista rincaro del 25%. Qui abbiamo tre operatori Roberto Tarsi, Stefano Mirisola e Mario Di Remigio. L'annuncio è unitario per il nuovo anno di CNA, Confesercenti e Confcommercio. Tutte e tre le associazioni di categoria. Il prezzo potrà salire fino a 1,50 euro altrimenti si doveva lavorare in perdita hanno dichiarato appunto i baristi. Polizia locale. La coperta è sempre corta. Scusate. Dubbi sul festivo. Chiesto uno stop notturno. Sono previste otto assunzioni. A Pesaro a febbraio. Tre per l'unione dei comuni. Le risorse per il quarto turno arrivano dalle sanzioni. La sospensione del servizio che va dall'1 alle 7.15 sarebbe solo per il periodo invernale. E va là che fino adesso Pesaro aveva questo servizio notturno perché altre località come Fano il servizio notturno non ce l'hanno. Con Ricci non abbiamo tradito il voto. Anche Conte ci ha fatto i complimenti. Parlano così i grillini ovvero i pentastellati il Movimento 5 Stelle di Pesaro che è entrato in maggioranza. I 5 Stelle in maggioranza con i consiglieri Vanzolini e Lugli. Con il sindaco un dialogo e un pungolo e hanno votato il bilancio come abbiamo riferito nei giorni scorsi. Palazzo Olivieri, il comune in cassa. In arrivo 5 milioni e mezzo per il restyling. Nella graduatoria del Mur l'edificio del Conservatorio. Ricci, altro importante finanziamento. Ne abbiamo già parlato. È il Conservatorio che finalmente riceve questi soldi per una sua ristrutturazione, un suo restauro. Ruba la COP per due giorni di fila. Un cubano incastrato dalle telecamere. Si tratta di un trentenne. La prima volta l'aveva fatta Franca ma 24 ore dopo ci ha ritentato e questa volta è stato incastrato. Aveva già trafugato apparecchi elettrici. E sempre a Durbino si parla della nuova sede per il commissariato. Deve essere nel centro abitato. Hanno convenuto tutti. Sindaco e Giunta hanno ricevuto il mandato del Consiglio per evitare lo spostamento in zona Sasso. L'ospice pediatrico nascerà a Fano. 4 milioni per sistemare l'ospedaletto. La risoluzione della Regione con l'impegno di Salta Martini unificate mozioni di Lega, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Tre mozioni che hanno avuto un'unica risoluzione nella giornata di ieri e la notizia è molto molto importante perché l'associazione Maruzza di Fano da tanto tempo si è battuta per riabilitare questa struttura, l'ospedaletto, ai fini pediatrici. E proprio qui sarà insediata l'ospice pediatrico per le cure palliative, ovvero per lenire il dolore di quei bambini che soffrano e quando un bambino soffre purtroppo piange il cuore. È una cosa letteralmente straziante per cercare di far sì che questo non accada. Biblioteca mobile itinerante per sapere governare la rete. Grazie al finanziamento di una ditta, la TechFem, ci sarà una palestra per i ragazzi delle scuole medie, una palestra di tipo culturale perché una palestra digitale verrà distribuita alle scuole. E poi vediamo che le ferrovie della Val Metauro, l'associazione Ferrovie della Val Metauro plaudono a Balbelli per l'anello ferroviario. L'assessore regionale ha prefigurato, ha cercato, insomma, di insistere per realizzare questo collegamento ferroviario che da Pergola arrivi poi a Fabriano e quindi un passo in più per far sì che dalla costa a Fano si raggiunga Roma senza passare per Ancona e Falconara. Ci vogliono ancora oggi tanto, tante ore per arrivare nella capitale e passando per Pergola e Fabriano si risparmierebbe molto, molto tempo. In questo articolo di Spalla vediamo che si parla del presepe di San Marco, aprirà il giorno di Natale fino all'Epifania dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 con l'obbligo di prenotazione però per i gruppi organizzati e visitare questa bellissima struttura lo fanno anche i fanesi ormai la conoscono di anno in anno ma ogni anno trovano qualcosa in più. Quest'anno troveranno una ricostruzione di Piazza 20 Settembre rifatta in tutti i particolari così come era una volta ma il bello è fare un viaggio tra la creazione del mondo su tutti gli episodi della Bibbia fino al Nuovo Testamento. Bellezza e sicurezza non stop il vice sindaco Conia Lo Slogan si parla di Fossombrone che è oggetto di alcuni interventi di restyling, di arredo. È stato rattoppato il corso sono state sistemate le fioriere si tornerà a catturare i piccioni che lordano un po' tutto il quartiere si rifà l'illuminazione e la pavimentazione di corso Garibaldi il vice sindaco Michele Chiarabelli evidenzia questi interventi che sta facendo l'amministrazione comunale. A Pergola ci sono polemiche polemiche perché un decreto della sindaca Simona Guidarelli ha suscitato la reazione della opposizione e un funzionario invia l'esposto ad ANAC sono contestate le sostituzioni dei capi settore del comune la Guidarelli dice paradossale quello che viene fatto l'atto è per sveltire le pratiche dunque è in atto uno scontro sordo dice il giornale all'interno dell'amministrazione comunale di Pergola un contrasto tra capi struttura e funzionari sulla correttezza e la funzionalità di misure e di provvedimenti amministrativi quando si cambia qualcosa all'interno di una struttura consolidata spesso nascono delle reazioni. Vediamo anche quello che scrivono i giornalisti sulla pagina di Senigallia riapre il reparto Covid all'ex ortopedia scoperto un positivo dopo la terza dose si tratta di un 42N che è asintomatico l'infezione è stata accertata all'arrivo al pronto soccorso per una caduta in casa quindi una caduta del tutto accidentale verranno quindi eliminati 14 posti sul letto di lungo degenza a Senigallia che sarà ricompresa nei 32N della medicina e al posto della lungo degenza tra le trasformazioni che sono in atto verrà trasferita la medicina d'urgenza che si sposterà nell'ex ortopedia sorgerà qui il reparto Covid che potrebbe dove appunto si potrebbe aprire a ridosso di un Natale questo reparto ma ancora però non c'è una conferma una esatta collocazione appunto di questa struttura e concludiamo la nostra rassegna stampa con lo sport vediamo che la Vis cambia strategia si prepara ad affrontare la prossima gara Banchini cambia la Vis sicura la difesa a tre arriva a Pesaro il Siena il tecnico mette a punto i correttivi dopo la delusione del derby con l'Anconitana probabile avvicendamento completo in attacco ma il trequartista ci sarà per quanto riguarda il Fano Calcio invece c'è Vasto Girardi Fano risalga chi può in Molise il prossimo incontro la sfida per capire chi ha più prospettive di scalare la classifica occhio a Michele Guida un capocannoniere del campionato e qui vediamo Reimondo Catalano che ha ottenuto due vittorie consecutive e quindi ha rimesso la squadra sulla giusta via ebbene qui concludiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento come sempre alle 7 di domani e per le notizie del giorno al TG di Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 buona giornata grazie a tutti